Il bastione San Sisto, l'ex bastione Torrione Borghetto e l'ex caserma Jacopo Dal Verme, tre tesori della città di proprietà dello Stato che potrebbero tra poco essere utilizzati dai piacentini. È questa la finalità del bando di concessione e valorizzazione promosso dall'Agenzia del Demanio che già oggi è pubblico in gazzetta ufficiale sul sito dell'agenzia stessa. Da qui fino al 31 ottobre i soggetti interessati potranno partecipare al bando per individuarne le vocazioni migliori. L'apertura del bando di aggiudicazione della concessione di valorizzazione c'è un affitto a tempo con investimenti privati per il bastione di San Sisto, la caserma Jacopo Dal Verme con il relativo parcheggio e il bastione di Porta Borghetto. Quindi tre beni che da tanto tempo la città aspetta di valorizzare. Il primo bando ci vogliono anche tanti quattrini per fare un investimento ma che di anche un utilizzo pubblico oltre che privato di questi dei beni del bastione di Porta Borghetto in particolare. Passi da gigante anche per il riutilizzo dell'ex ospedale militare di via Palmerio. Come già anticipato da Tele Libertà parte infatti oggi lo studio di fattibilità per valorizzare l'immenso immobile che presto passerà al demanio stesso. Tra le ipotesi future cullate dall'amministrazione quella di avere una galleria commerciale al piano terra ma soprattutto riunire gli uffici del comune al primo piano antico pallino. Due passaggi quelli illustrati oggi in municipio che segnano una potente accelerazione sul fronte del riuso di immobili da porre al servizio della comunità. Lo ha sottolineato il sindaco Paolo Dosi. Un'accelerazione ulteriore rispetto ai passaggi precedenti da concretamente l'idea di una città che finalmente ha sbloccato una situazione che finora era stata statica intorno al tema delle aree militari e che oggi grazie ad una collaborazione ad una normativa che finalmente si è sbloccata venendo incontro alle richieste degli enti locali ha reso disponibili questi beni. Questo consente al territorio di poter avere concretamente beni importanti che vengono messi a disposizione dei privati o di coloro i quali hanno idee buone positive da poter restituire alla città. Grazie.